Eh no, sì, l'hai detto tu, sicuramente mi dà un qualcosa in più, ma cercherò di sfruttarlo sul campo appunto come motivo d'orgoglio e sicuramente sono contentissimo perché giocherò davanti ai miei amici, ai miei familiari e è uno dei miei stati, diciamo, sicuramente a cui sono molto affezionato. Beh sì, hai detto tu, sicuramente è stato il primo anno in cui mi sono sentito veramente importante per una squadra, per una città, ho bellissimi ricordi che rimarranno indelebili sicuramente, ho un bellissimo rapporto con tutti, staff, tifosi, compagni, quindi mi sentivo di tornare e l'ho fatto perché mi fa piacere. E poi la Premier è un campionato sicuramente molto diverso per certi aspetti rispetto alla Serie A e quindi è sempre meglio imparare a giocare con qualità diverse, con ritmi diversi e penso di poter aiutare la nazionale in questo senso. Sarà divertente giocare con il mio compagno di squadra che è sicuramente un top player e cercherò di dare ai miei compagni dei consigli per aiutarli a fermarlo, diciamo, perché appunto è un gran giocatore e sul medito che qualità ha, sicuramente è forte nullo contro uno, sa calciare bene in porta, quindi cercheremo di limitarlo il più possibile. Sicuramente siamo molto giovani, infatti la maggior parte dei ragazzi li conosco molto bene e posso dire, come hai detto tu, che siamo un grande gruppo e adesso è un po' presto sicuramente perché abbiamo appena cominciato questa nuova stagione, ma sono positivo e i segnali sono positivi altrettanto, quindi cerchiamo di continuare così, come ha detto il mister. Sicuramente la costante con il mister e con Arteta è che vogliamo e cerchiamo di dominare la partita attraverso il gioco, queste sono le cose che accomunano questi due allenatori e sicuramente sono d'accordo con entrambi perché è sempre meglio affrontare una partita in questo modo che dover subire gli avversari, questo è quello che posso dire sicuramente, senza entrare nei dettagli. Sì, me lo auguro sicuramente che possa accadere anche a altri ragazzi giovani come me o anche più di me e spero mi prendano come un esempio da seguire da questo punto di vista e sarei contentissimo per loro. Sì, come hai detto tu, è un po' difficile dire una cosa soltanto che fa differenza tra, ne dico due allora. No, la prima cosa che mi ha dato l'occhio appena sono arrivato, dopo gli europei, sicuramente è l'intensità che mettono negli allenamenti e nelle partite, questo l'ho trovato molto diverso dall'Italia. Poi non mi sento di dover dire che dobbiamo rubare qualcosa in particolare, però le partite magari sono combattute fino alla fine, qualsiasi squadra incontri, se sia piccola o più blasonata, nessuno pensa troppo a difendersi, questa è la grande differenza, infatti ci sono più contrattacchi ed è più divertente da seguire, solo questo.